Ciao Melly, ciao un cazzo. Oggi iniziamo Slender The Arrival e gioca a lui. Ha ha la cosa più bella, sapete qual è che giochi, che l'ho suggerito io. Come devo fare questo gioco un po' perché ci vediamo addosso. Dove vai? E lui no no no, poi ha visto un po' e ha detto ok facciamo, poi ho vincito un po'. Secondo me devo passare un po' la voce, ma la seconda voce. Softe, a big guy, a devotion, a love a fuck fammi leggere, a fuck. Bella sta macchina, una macchina. Come the poop stops down, that's not a big game. Shhhhhh. Fai, fai, fai intragendente. When you fight beside you, no, 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 no. Imagine how far will they carry you? Ah buongiorno. Si è un play. È un play, stanno riprendendo però. Wow. Che grafica slollissima. Ah si, ma non si. Ok posso anche zoomare, con l'air zoom in avanti, con il pull zoom in indietro, i tasti per me qualsiasi sono da visti. Corri con shift. Ok vedi la messa a fuoco adesso. Ah niente, non si può vedere mappe quadrini, non si può vedere. Ok avanziamo. Non si può finire il tipo di registrare. No, la batteria è un po'. Blue Island Studio Prado di Presence. Ragazzi che spettacolare. Oh e iniziamo. Bella sta cosa da sotto. Let the man, where are you? What the fuck have you said man? Fantanzia. Fuck wow. Ok, hai capito? Mi sono cagato addosso per il titolo che è comparso. Voi pensate che... Ah ecco, mi vado in mente una cosa. Molti commenti dicono che lui esageri nella reazione alle paure. Io vi assicuro, lo giuro sui miei capezzolini piccoli piccoli che sono andati in Francia, che lui non scherza. Guarda dove vado. Di qua. Di qua. Devo correre un po'. Non sa, ti dico. Anche lo spazio rotto hai il corpo giù. Ma anche non salta. Deve crepare soltanto. Ma io si sta facendo più scuro. Ho l'impressione mia perchè sono gli alberi, no? Sono gli alberi. Lascia il diverso. Comunque lui non scherza. Io vi assicuro. Vi giuro che dovete... Vabbè comunque... Non scherza. Si caga davvero addosso per qualsiasi cosa. Guardate. Vedete? Si caga per qualsiasi cosa addosso. E questa non era preparata. Attenzione, questo è tutto live. Dobbiamo anche dire una cosa. C'ho l'ansia del gioco. Tutti. Tieni l'ansia del gioco. No. 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 Guarda una casa. Andiamo alla casa. Vedi? Te l'ho detto che si stava facendo più scuro. Tu non mi credi? No. Perché corre così? No. Zitto un po'. Che? Che corre? Che? Zoom. Ah è un cartello. Zoom. Zoom. Impendita. Impendita. Ok. Vediamo la casa. Non ci piace. Ciao. No. È scuro. Ok. Andiamo in casa. Questo è un... Dimmi che posso andare sull'altalena. Ti prego. Anzi. Praticamente. Andiamo in casa. Adesso in casa. Adesso in casa. Chi è Kate? Ok. Ok. morendo di giro va sento non ho ancora fatto tutto 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 ah ma i devo tarcinare ti comuni c'è? eh si questo gioco di per cazzo chi mi ha fatto fare un po' di luce magari non riesco ad avanzare anche adesso si ho bannato il gioco attenzione eh la grafica comunque è qualche cosa è proprio realistico immagino questo gioco giocato con con la brava madonna mia oh mi sono caccato sotto della nostra no c'erano queste prima non c'erano sono sicuro questo non è sicuro questo è Jack Skeletor è il nomino di marzapà il nomino di porco giuda bella salute lei è? che carino è mamma e figlia penso un telecomando non è un telefono mi è piaciuto di essere morto ma non mai letterina allora grazie posso ringraziare ora per conoscere tutto questo per farmi fuori è stato un po' di io vorrei che non hai capito di quanto felice ho stato eh io ho lì quando sono contento mi sento per scrapbook aspetta aspetta come fa? tab? tab? no j non j non è amnicia ragazzo come si fa? interna la flashlight eh che si vanno capito oddio e l'ombra sua mi sono cagato addosso ma come hai fatto a registrare? premiamo tab ah se premi tab registra eh ma come si fa a prendere la flashlight eh ma non è che le opzioni aspetta prova a premere tasto destro opzioni mouse gamma no no ah abbiamo pure il obiettivo search for clues ah dobbiamo trovare delle prove ma scrapbook eccolo ah eccolo ok non ci interessa quindi dobbiamo aspetta prova a mettere j adesso per vedere se abbiamo la flashlight non ti dice com'era la flashlight ah ah no quindi nel cellulare non è flashlight quindi dove ah buono non credo che devi riprendere sempre perchè poi la batteria si scarica quindi oh buono un pianoforte no 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 non sai suonare prendi lezioni di piano tesoro no ma io stai cercando una torcia no io qua dietro non ci va no comunque questa ombra è inquietante dov'è la torcia provi ad andare di sopra no andiamo sopra andiamo sopra andiamo sopra andiamo sopra che cazzo è? Marte moderna? ho svaldo paniccia è stato qui no perché non vedo un cazzo di niente perché non voglio stare ma no io sappi che non sappi che sto morendo anzi anzi io mi riscosto tipo fra poco morirò salterò mai invitami no 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 giri di giri di giri di giri no sento una chiave una chiave non vuoi prendere questa come noi cazzo è bene che di solito quando facciamo video la mia espressione è tipo questa adesso mi si sa che dire non sono stato è stata la sedia no non si può andare allora secondo me la torcia sta giù devo andare forse sta nel garage qua ci sono andato prima si si quindi la no mi sono cagato addosso la mamma che ha aperto la porta è stata ancora peggio qua non ho esplorato esplorando questa uu letterina hey kate it's vino palo non leggiamola tutt' altrimenti non non finiremo e abbiamo fatto anche questo stiamo cercando le prove che kate in pratica e quindi un'altra prova è stata provata trovata però perché devi abitare in un posto simile siamo andati di là ma c'è una porta non siamo andati permesso salve c'è no dimmi che la torcia no no si 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 ti amo aspetta che vuoi da mangiare? dai che cucina tutto un telefono dimmi che funziona e quando mai ancora porta sei buono eh aspetta qua c'è un'altra prova figura ah infatti oh mi sa questa forse è quando si è crevata quando è crevata ma non è lei che si è scritto betto qualcosa yeah oh ok così si spegne che così? con il tasto destro del mouse va così guarda perché ti allarga eh non lo so non lo so un mattamondo adesso vorrei sapere visto il ciò sciolare in mano come cazzo fa ad aprire le porte questa tizia così? cosa hai bisogno della chiave sicuro? no 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 vuoi sapere come cazzo? è molto wow un'altra nota è una nota no 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 sembra sei la sua taglia tipo sta cosa qua dentro vero però no no che va che sta accadendo la pianta morta ui cesso cesso vomita no altra bella pianta morta lo specchio in cui non ci possiamo riflettere secondo me stiamo per morire non lo sappiamo quella bella stanza piccolo 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 no quella buia buia com'è bella com'è bella una stanzetta senza luce col panino con la mucata questo gioco fa cagare addosso senza aver fatto già in dire minchia questa è la mia ombra ogni volta eh si ma è proprio brutta ma il telefono gioco ma perché la tv è così no no signora tv cosa è successo ma non è che il contigo se faccio controllo si abbassa no vabbè bleh questa va tutto così che sia di carina comunque e andiamo in goppos oh 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 ah questa è la camera da letto perché il suono si sta rendendo più eh più forte o mi sto impressionando non lo so ormai non so niente cioè volevo commentare volevo fare qualcosa ma non è che sei qua fuori vero la mia attitudine cioè le mie capacità si stanno riducendo sempre di più la mia sanità mentale è come quella di Daniel ah beh basta mi sta mettendo una bellissima manza di merda anzi ma io sto malello sto giocando io eh appunto ma voglio dire quando giocherò io sarà ancora peggio ma tipo qua ti bisogna trovare sicuramente qualche altra cosa madonna no 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 non lo farei più nooo ciao splenderman chiudiamo la porta giù chiudiamo la porta giù un po' tardi A me viene da ridere perché lui si prende paura, io sto giocando, hai capito? Questa è la cosa bella, mi sto cacando, visto com'era bellino? Buon bello era, ma non devo farceli più. Sfavire, corri corri, si zappa? Gira, ti gira, ti gira, ti gira ma che gira, tu sei pazza? Se voglio morire! Oh mio dio... Questa sono tutte quelle immagini che ti verranno nel Timo Slender Man? Eh sì, vedi che si vede... Oh, me lo lascio, me lo lascio Matita? No, no Carlo, aspetta E come non è? E come l'abbiamo preso? No, ce l'ho fatto però Ottimo Non è che si devono raccogliere... Qual è l'obiettivo? Investigate Scream No! No, dobbiamo andare dietro a casa Bisogna un po' fixare il fatto... Tieni un po' forse Eh sì I wanna scream And shout Scream E let it out Ma la macchia mia funziona più No, non vedo Però dobbiamo entrare E io fossi in teglia della porta E let it out Ma come ci siamo già qua? Aspetta, dietro, aspetta, guarda dietro, cosa c'era dietro? Quale dietro? Questo dietro No, no, ok Andiamo ad uscire fuori Living a pineapple under the sea SpongeBob SquarePants Chi si fa tua madre e non la mia SpongeBob SquarePants Un po' ti rialzi Un po' ti rialzi a questo gioco mita SpongeBob SquarePants Una piccola rapida pressione Mi devo pigliare SpongeBob SquarePants No Ciro No, aspetta un attimo Ciro scivolo Io lo devo fare Tu hai capito cosa faccio fare? Vai, corri Vai, vai, vai Muivi Muivi Ti prego, dimmi che cosa posso fare Sono la persona più felice del mondo Se posso fare con la piscina Ma che sti cazzi? No, no, no Io ho visto qualcosa di bianco all'altro Io ho visto qualcosa di bianco all'altro Eh, non fa niente Yeah Vedi Ho sblocato una cosa Che grande che sono No, no, sono troppo forte voglio Eh, io fossi dovrei girare la parte Io fossi intemolirei Progressi? No? No Manu Progressi Fuck yeah Un po' di pausa Ok Direi Che dato che io sono Io sto morendo Diciamo abbiamo fatto il primo stage Quanto ci risulta quando... Ci sono vari stage quindi Ci sono cinque stage quindi Cercheremo di farli in cinque puntate Però se escono di più Perché o siamo scarsi o siamo troppo cagati addosso Io tolgo queste cuffie Se il gioco è bello che fa paura Un gioco è bello e fa paura Fa paura e beh Mi sto cagando addosso L'ho detto già mite volte però Comunque detto Ragazzi Come sempre Ce lo dai tantissimo sedi Parla dove fuori Non ti ricordo Non ti ricordo Se mettete in Italia Io vi faccio coraggioso È bellissimo Senti mi piace al video Condividete Commentate E se proprio Da paura di Gennaro E la mia ansia continua E vi è piaciuta Potete anche mettere il video ai preferiti Detto questo ci vediamo Al prossimo appuntamento di Soledad Rival E ciao Berli Ciao Berli Ciao Berli Ciao